Ivano Feola, momento particolare per questo Chieti, che gioca e non raccoglie. Più che particolare si può dire, un po' sfortunato, perché comunque giocare e non raccogliere è come se uno semina e non gli esce mai niente. Quindi penso che domenica la prima cosa che sicuramente avremo è la cattiveria di portare a casa il risultato. Indubbiamente perché serve a noi, serve per farci crescere, ma soprattutto per darci di nuovo l'entusiasmo che avevamo prima. Poi se rigiochiamo e riperdiamo troveremo comunque qualche soluzione. Però noi continuiamo a lavorare tranquilli perché comunque è lavoro ciò che ti porta ad avere risultati. E penso che lo stiamo facendo nei migliori dei modi e dobbiamo continuare così ed arriveranno i risultati. Perché poi si dice che giocando bene alla lunga non può andare sempre come a Poggi Bonzi o domenica. A Poggi Bonzi un'azione subita, un gol e domenica poco di più. Sì, sì, a Poggi Bonzi lo stesso, a Poggi Bonzi ci sono messo un po' del mio, però penso che dopo quello io non ho subito un tiro in porta. Domenica il ragazzo del Gavorrano ha trovato il gol della stagione. L'altro che si era a Biconi l'ha tirato di Stinco e l'ha messo sotto l'ingrocio. E noi invece palli, traversi, portieri, avversari fanno tutte importanti parate. Però penso che alla lunga non troveremo sempre gente che è nella domenica, nella giornata ideale. Quindi noi continuiamo così e noi siamo tranquilli. E quindi arriveranno i risultati. Si va vicino a casa tua, della Versa, che sappiamo? Beh, che sono come tutte le altre squadre campane, non tanto brave sul piano tecnico, ma a livello della fame e della grinta le squadre campane sono sempre diciamo le migliori della classe. Che comunque poi in casa soprattutto, che si devono salvare, si devono far vedere, corrono sempre. Però noi siamo tranquilli, perché comunque anche l'anno scorso abbiamo dimostrato che ce la giochiamo con tutti. Anche quest'anno ce la stiamo giocando con tutti, dobbiamo stare solo tranquilli. Una domanda che faccio a tutti e chiudiamo. Dove può arrivare il Tieti? Beh, domanda più che scontata. La salvezza prima di tutto. Penso che sia ancora molto lunga arrivare alla salvezza, perché è un campionato equilibrato. Infatti, se ci fate caso, noi abbiamo perso due partite, ma siamo sempre lì. Comunque in zona playoff, perché comunque le squadre ci sono quest'anno. Forse non è allo stesso livello dell'anno scorso, un po' calato, però è livellato. Quindi dobbiamo stare attenti domenica per domenica e penso che fra un paio di mesi già si capisce qualcosa.